Dal tour con Mia Martini, agli anni all'estero negli Stati Uniti e in Finlandia, fino alle lunghe e prestigiose collaborazioni nel mondo della dance. È un curriculum da big, quello del chitarrista Beppe Lombardo, oggi impegnato in un progetto piacentino per l'etichetta di Greg Lake, e su un album contenente 13 suoi brani inediti prodotto da Marco Pizzassegola. Questo venerdì a Caorso, Beppe Lombardo darà un assaggio del suo talento al Cinefox, che farà da teatro al concerto benefico a favore dell'associazione italiana Tumori Cerebrali. Lì facciamo soprattutto il rock blues, però abbiamo deciso di fare una cosa che è la musica degli anni 70. Noi abbiamo fatto delle cose tipo Friends Up e Mountain, che sono gruppi degli anni 70. Abbiamo fatto una cosa che ci piace molto per dire Giobbo Namassa, Gary Moore. Sul palco, quindi, a partire dalle 22, salirà il suo gruppo, gli Uncle Oswald, insieme agli Ordigno e alla band della giovane Ambra Lofaro, il Late Night Quartet.